ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video in particolare perché oggi è martedì il martedì sapete tutti che esce un nuovo video delle makeups angels quindi un video che riguarda me fabiana e elisabetta ovviamente troverete i link dei loro canali giù nell'infobox e troverete anche le loro pagine sia facebook sia instagram e anche per quanto riguarda betty su tiktok perché lei è molto molto brava poi ha una voce pazzesca quindi seguitela anche su tiktok allora cosa abbiamo deciso di fare da un'idea di betty abbiamo deciso di fare il tag che ha fatto giulia cova sapete tutti che è la nostra ispiratrice principale quindi lei aveva fatto un video tag per quanto riguarda le palette noi appassionate di palette non potevamo non farla quindi qui ho le domande sul cellulare e iniziamo subito con il video allora qui si tratta di un tag per quanto riguarda le palette quindi dobbiamo far vedere tutte le palette che abbiamo e specificare diciamo la il tipo di palette cioè devo mostrare il tipo di palette allora qui dice mostra la tua palette più nuova allora per quanto riguarda palette più nuove io ancora non ho fatto nemmeno il video perché sapete tutti se avete visto il video precedente che non è stato un bel periodo quindi non ho potuto nemmeno girare il video perché non avevo nemmeno la voglia e l'ultima palette che ho acquistato quindi le nuovissime in casa di bernardo sono queste due ebbene sì mi sono data la pazza gioia allora questa l'ho presa da sephora ed è la palettina di kat von d ok v beauty non so come identificarla ve la faccio vedere ma poi farò ovviamente un video apposito questo è il packaging esterno ha uno specchio a forma di cuore bellissimo e questi sono gli ombretti sono molto molto colorati sono veramente molto molto belli mi piace tantissimo mi piaceva questo range di colore mi piaceva il fatto che non erano opachi ma tutti diciamo shimmer quindi adoro certe volte mi servono questi colori così quindi l'ho voluta prendere poi questa che vi faccio vedere adesso invece è una palettina che ho preso perché l'ho vista su instagram a te capi di till si dice in siciliano nel senso che era tartassata con questa palettina e l'ho dovuta prendere perché veramente mi è piaciuta tanto infatti mannaggia certe volte su instagram non ci voglio nemmeno entrare proprio perché fanno vedere delle cose molto belle ad esempio c'è una marca che mi piace si chiama terra nostra una cosa del genere e ha dei pigmenti molto particolari ma mi sa che comprerò qualcosa il packaging della palettina è questa io l'ho presa su morfi e l'ho presa scontata veniva pochissimo ha uno specchio grandissimo questo è lo specchio e questa è la palettina aspettate che mi metto il cartoncino di sopra così non vi acceco e questa è la palettina cioè guardate che bellezza che ha cioè è pazzesca mi piace tantissimo mi piace anche il fatto che qui ha delle stelline cioè veramente molto molto bella non vedo l'ora di utilizzarla e poi ovviamente vi farò sapere com'è perché sicuramente farò dei make up proprio per quanto riguarda questa palettina mi piace tantissimo quindi non vedo l'ora di utilizzarla e questa vabbè poi la sistema e questa per quanto riguarda la più nuova quindi poi mostra la tua palette più vecchia questa proprio ha l'inizio 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 e sto parlando della naked la naked originale di Urban Decay questa proprio è quella dell'inizio ed è quella che utilizzo quando devo truccare qualcuno perché ha dei trucchi neutri li posso abbinare diciamo dappertutto molto spesso la utilizzavo per truccare mia sorella perché lei ha una cornagione olivastra e anche mia nipote quindi questa è quella che io utilizzo di più se devo truccare qualcuno perché questi colori si abbinano benissimo tra di loro e non conoscendo bene l'armocromia per quanto riguarda i colori del viso e tutto con questa non sbagliavo mai quindi andavo sul neutro e mi trovavo benissimo quindi questa è la più vecchia scrive ancora ed è ottima quindi buono poi andiamo avanti mostra la tua palette più costosa allora per quanto riguarda la più costosa devo dire che sono andata alla ricerca di tutti anche di la palettina di Jeffrey Star ma la più costosa è questa adesso non mi ricordo il prezzo ve lo scriverò ma la più costosa la più costosa è questa ed è la Mercury perché è costata di più non l'ho pagata io però è costata di più ed è costata di più però è bellissima è stupenda cioè la ricomprerei centomila volte ed è questa questa bellezza qua bella 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 e questa è la palettina ok questa è la palettina più più costosa ma devo dire la verità ma il packaging è fantastico cioè con questi occhi stupendo veramente stupendo andiamo avanti costosa mostra la tua paletta meno costosa allora per quanto riguarda meno costosa io ne ho due una è di Makeup Obsession che è questa qua e devo dire che è buona come palettina l'ho già utilizzata in un video ma farò altri make up per quanto riguarda questa palettina perché mi è piaciuta tanto specialmente ci sono dei colori che io adoro e quindi la utilizzerò sicuramente ma quella che utilizzerò quasi non vi dico subito perché devo uscire ma a giorni utilizzerò perché farò un full face proprio per quanto riguarda questa marca è quella di Astra devo dire che come pigmentazione è fantastica veramente veramente fantastica e mi piace tantissimo il range di colore io sono un'appassionata di blu quindi amen e poi c'è questo borgogno qua sopra che mi ispira tantissimo poi il grigio il verde cioè è una palettina che mi piace tanto veramente tanto e quindi non vedo l'ora di utilizzarla e di farvi vedere che make up ho in mente quindi è la meno costosa ma molto molto scrivente perché è ottima Astra devo dire la verità sta sfornando delle cose molto particolari e devo dire che ottime ottime veramente poi la mostra la palettina da tutti i giorni allora come palettina da tutti i giorni io vi mostro questa qui di Carmi Mewa perché per me è ottima quando non so cosa diciamo che trucco fare o cosa mettere sugli occhi all'ultimo minuto devo uscire mi serve qualcosa di particolare io utilizzo lei lei è un po' un po' rovinata utilizzo lei mi piace tantissimo perché posso fare sia trucchi freddi che trucchi caldi poi mi piace tantissimo questo rosellino qui questi questi sono il punto proprio focale di questa palettina veramente molto molto bella molto molto bella io la adoro adoro il rose gold che assomiglia al pigmento di mac oddio non mi ricordo come si chiama comunque ci assomiglia è pazzesco e sui miei occhi mi piace tantissimo e l'abbino ve lo voglio anche far vedere perché l'ho già utilizzata con questa matita di essence dentro l'occhio pazzesco veramente pazzesco ma pazzesco pazzesco mi piace tantissimo quindi questa ve la consiglio da tutti i giorni perché potete fare di tutto e di più sia neutri che particolari la potete mixare fare tutto quello che volete perché è un'ottima palettina sia per quanto riguarda gli ombretti come scrivenza e tutto sia per quanto riguarda i colori numero uno veramente poi andiamo avanti palettine tutti i giorni l'abbiamo fatta vedere poi mostra la palettina più colorata allora veramente vi ho fatto vedere già le palettine più colorate ma visto che voglio farvi vedere sempre qualche palettina in più per svariare diciamo per variare non svariare per variare vi faccio vedere questa di neve cosmetics perché io ce l'ho tutte e questa diciamo è quella più colorata perché questa è la intensissimi di neve cosmetics veramente se volete del colore qui avete il colore proprio non vi potete cioè avete una vasta scelta di colori la pigmentazione non è ottima come le ultime cialde che ha fatto neve cosmetics però questa è la più colorata e mi piace tantissimo anche questa io le utilizzo random ovviamente perché prima una poi un'altra non è che ne ho due occhi ma un trucco devo fare non è che mi posso sbizzarrire in altre maniere poi mostra la tua palette più piccola allora per quanto riguarda la più piccola io ne ho due proprio ho preso anche le misure per vedere qual era la più piccola e ho questa qui di zoeva che ho già utilizzato in un video e questa qui di natasha denona sono le le due palettine più piccole che ho quella di zoeva è così ed è molto molto bella anche questa i colori mi piacciono tantissimo poi c'è questo range di colori che va sul marroncino e tutto questa però ancora non l'ho utilizzata ancora non l'ho utilizzata e sinceramente non lo so se l'utilizzo che dite la utilizzo o la metto in premio per questo video oddio mi sono spoilerata qualcosa aiuto questa è una palettina piccolissima che no credo di non utilizzarla vediamo su instagram dirò qualche cosa allora la palettina piccola io ovviamente in base alle misure che ho preso ho preso questa qui di natasha denona perché è la palettina più piccola che posseggo ovviamente c'è anche la sorellina di natasha denona però è sempre questa qua piccola quindi è inutile far vedere farvene vedere due va bene anche questa ed è molto molto bella mi piace tantissimo sia per quanto riguarda gli ombretti perché anche essendo piccolina la potete mettere nella pochette entra benissimo perché la dimensione è quella io ho anche dei pennelli piccolini che ho preso da neve cosmetics quindi entrano benissimo nella pochette potete utilizzarla dove volete e devo dire che è ottima non mi piace proprio quelle palettone quelle grande grande perché sono un po' ingombrandi faccio sì la collezione però sono un po' ingombrandi però questa mi piace questa mi piace ottima andiamo avanti quindi vi ho fatto vedere quella più piccola vi faccio vedere quella più grande non ho ancora fatto il video apriti cielo questa è la mia palettina più grande l'adoro è pazzesca è la palettina con il packaging forse più bello io direi proprio di sì lo scatolino è un po' rovinato però la sto tenendo nello scatolo perché non voglio che si rovina corona bellissima questa è una bellissima palettina è la palettina più grande che io posseggo ed è questa qua aspettate gli ho infilato i dito? sì ed è questa palettina qua sapete che ancora non l'ho utilizzata non ho avuto l'occasione di utilizzarla ma è bellissima allora a parte che è molto molto bella ve la faccio vedere così da vicino a parte che è molto bella ha i colori che io prediligo di più in assoluto e il packaging è fantastico poi è enorme è quanto al mio viso e io ho una grandissima faccia comunque la più grande è questa andiamo avanti la più grande la più piccola la più grande mostra la tua paletta alla quale è legato il ricordo più bello quindi il mio ricordo più bello sinceramente è questa qui sempre la Mercury perché mi è stata regalata dalla mia migliore amica quindi il mio ricordo più bello è quello perché allora avevo fatto una specie di lista io nel carrello mettevo sempre i prodotti che mi piacciono e lei è andata a comprarla perché è andata direttamente allo store a prenderla io stavo aspettando un giorno che avevo più tempo per andarci invece lei mi ha fatto la sorpresa e me l'ha presa lei direttamente e quindi è stato un regalo molto molto gradito perché a me piace tantissimo questa palettina già l'avevo vista quando l'avevano fatta uscire in anteprima e mi è piaciuto tantissimo e quindi questo è il regalo della mia migliore amica e quindi è un ricordo bello e mi piace poi andiamo avanti mostro una palettina che merita il swipe quindi il fatto di essere famosa Anastasia questa questa di come si chiama di Jakey Hina bellissima packaging fantastico tutto bello tipo gommato adoro lo specchio grandissimo è il range di colore il suo hype nel senso il fatto che sia famosa e tutto lo merita tutto veramente perché i pigmenti e gli ombretti di Anastasia Beverly Hills sono fantastici anche se sono un po' polverosi ma non prega niente io faccio la base dopo ma sono degli ottimi ombretti veramente ottimi ottimi ombretti per quanto riguarda la sfumabilità per quanto riguarda il range di colore mi piace tantissimo quindi per me è il numero uno è la migliore come marca io la adoro veramente in assoluto poi mostro una palette che non merita il swipe che ha avuto allora devo dire a mio discapito perché a me piace questa marca devo dire queste qui piccoline di Huda Beauty infatti io non ho preso le pastel perché ho visto la pigmentazione che era bruttissima e quindi non l'ho voluto riprendere le altre sono un po' diciamo un passo in più di questa qua ma non non hanno cioè allora in poche parole non tutti gli ombretti sono uguali quindi non tutti gli ombretti scrivono nella maniera che avrei voluto che hanno sponsorizzato diciamo così perché questa palettina è stata sponsorizzata in tantissimi video perché ovviamente l'hanno mandata a tante persone parlo in America e tutti hanno fatto il video gli ombretti scrivevano benissimo erano fantastici e tutto provandolo ovviamente io pensavo che era un problema mio che non riuscivo io invece ho visto altri video dove alcune ragazze hanno avuto anche difficoltà nel mixare i colori che alcuni colori non scrivevano bene quindi diciamo il fatto di essere famosa non come si dice non non attacca bene con il fatto di scrivenza bassa nel senso non non si assogia alla scrivenza bassa quindi di questa sono rimasta un po' delusa quindi per me il suo hype non non equivale a questa palettina io parlo di quelle piccoline per quanto riguarda questi colorate perché io quella sui malva scrive benissimo o quelle nude scrivono benissimo infatti non ho voluto prendere quella i pastel anche se io adoro quei colori perché ho visto veramente che la scrivenza è bassa e quindi non le ho voluti prendere poi mostra una palette che non merita l'ho fatta adesso mostra la tua palette preferita del tuo brand preferito allora qui sono due ve ne devo far vedere due perché il mio brand preferito per quanto riguarda le palettine ultimamente parlo sono Anastasia Beverly Hills e Huda Beauty queste sono le due palettine mie preferite in assoluto dei brand che vi ho fatto vedere per quanto riguarda Anastasia quella di Carly B mi piace tantissimo sia per quanto riguarda il packaging che è fantastico sia per quanto riguarda i colori perché adoro tantissimo questa tipologia di colori questi questi colori che di solito io non non avrei mai utilizzato invece mi stanno piacendo quindi sto utilizzando dei colori che veramente su di me non avrei mai utilizzato poi mi piace tantissimo questo qui che si chiama Mandala o Mandala questo adoro adoro questa palettina mi piace tantissimo veramente poi per quanto riguarda gli ombretti si sfumano alla perfezione quindi ottima e poi la mia preferita per quanto riguarda l'Huda Beauty perché è questa questa è la mia preferita ed è la New Nude cioè che dire questa proprio ha il nome di Stefania questa proprio ha il nome di Stefania è preciosa 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 i miei colori questi sono i miei colori mi sono sporcata nel frattempo mi sto specchiando lasciate perdere niente questa è la mia preferita mi piace veramente tanto proprio i colori questi glitterati qui c'è scritto Stefano no veramente senza scherzare questa è la mia preferita per quanto riguarda Huda Beauty l'ultima palettina mamma mia siamo arrivati in 20 minuti mostra la tua palette più usata allora la mia palette più usata è questa anche se avrei dovuto nominare gli ombretti singoli di questa marca perché sono quelli che utilizzo di più in assoluto sto parlando di Nabla in questa occasione vi faccio vedere la Dreamy la prima ovviamente che è la più usata è un po' spocca pochettino pochettino spocca sembra che non sia usata invece tipo ad esempio questo è un po' leggermente scavato perché mi piace tantissimo mi piace questo rose gold lo vedo dappertutto non so perché comunque questa è una palettina che mi piace tantissimo è la più usata sinceramente per quanto riguarda tutto il mio range di palettine mi piace tantissimo mi piacciono mi piacciono mi piacciono veramente mi piacciono tantissimo gli ombretti di Nabla mi trovo veramente molto molto bene io li adoro specialmente anche le cialde singole non dimenticate le cialde singole perché ha delle chicche fantastiche quindi la più usata per me è questa perché sennò vi avrei messo anche tutti gli ombretti singoli di Nabla perché li adoro in assoluto bene ragazzi questo video è durato tantissimo allora per quanto riguarda il video io ho finito ovviamente vi taggerò il video di Giulia Cova ma sicuramente al 100% per non dire a mille per mille voi già avete visto quel video vi rimando i video delle mie due make up angels quindi di Fabiana e di Betty vi raccomando scrivetemi qui sotto le vostre palettine preferite o se vi piace qualche palettina che vi ho fatto vedere in questo video e ricordatevi una chicca che vi ho fatto vedere poco fa e che ho sbagliato a farvi vedere quindi su Instagram metterò un piccolo concorso che associerò a questo video e vi spiegherò lì cosa dovete fare ovviamente non ci sarà solo la palettina di quella piccola di Zoeva ma ci saranno altre cose però chi lo sa chi lo sa io ovviamente vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video sfolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao